Buonasera amici di Pianeta Giovani, quest'oggi spazio alle donne. Vedremo infatti le immagini del trofeo rosa, gara svolta a Severola Nuova, che ha visto protagoniste assolute le ragazze della categoria giovanissimi dell'intera Lombardia. Non esiste un fosso pulito. E come sempre, ad aprire le competizioni troviamo le piccole della G1, che stanno già pedalando a tutta sui tre giri del percorso a loro disposizione. Ultimo giro e al comando troviamo un atleta della Villongo, che pare ormai irraggiungibile. Alle sue spalle un bel testa a testa tra Mazzano e giovani giussanesi, poi il resto del gruppo. Il traguardo è ormai vicino, vedremo cosa accadrà. E all'arrivo taglia per primo al traguardo Ruggeri Laura della Villongo, che si impone davanti a Barg Sonia della Mazzano, Rivellini Rebecca della Giovani Giussanesi, Odelli Diana del Team Extreme e Zanchettin Sara della Molinello. Pesciolino, ma cosa vuoi? Dentro al fiume avrai dei guai. Pesci grossi non troverai, ma detensivi e sfuma sai. Sai, purtroppo oggi va così, è inquinato tutto qui. C'è un cartello scritto in grande là, acqua svolta in vino d'acqua. Pesciolino, non so che notti nel mio corpo.